Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Leonardo Alfaioli e oggi siamo su Dead by Daylight Allora, Dead by Daylight l'ho visto per puro caso su Steam gratuito Non lo so per il quale motivo ma ho visto gratuitamente su Steam Dead by Daylight Così, voglio, lo volevo installare Lo volevo installare Ok E credo che è dall'altro da quello che ho visto Dead by Daylight gratuito Dead by Daylight gratuito Sarà disponibile, finirà fra tre giorni Quindi ho avuto culo Allora, come potete vedere Abbiamo, come vedete ragazzi Abbiamo il Dead by Daylight con i sopravvissuti E anche con i killer Io volevo fare delle partite sia da sopravvissuto che da killer Allora, iniziamo dalla prima partita Ovvero da sopravvissuto Però prima facciamo una cosa Facciamo una cosa I perk Ok, guardiam, vedo il killer Nara del killer In un posto Unbreakable Che potrebbe essere buono Anche questo Ah, mi fa sbloccare i nuovi anche perk Va bene Allora sblocchiamo perk Che chi se ne frega Sì ma sto sprecando soldi E allora non lo faccio Si sta caricando Uuuuh Che giocano con The game Ah, ok Questa ho capito che cosa Oh no So chi è il killer Mi sa che ho capito chi è il killer Allora, praticamente è Il killer è Pinehead Ovvero quel tizio pelato Con i cosi Oh cazzo Lo sento di già Io non ce ne vado Vado qui Quindi se io mi trovo con i pro player Alla fine Però Aiuto Io vado da questo posto Però se corro faccio Surprise motherfucker Oh, oddio mio Cazzo Dai Pinehead Non fare questa cosa Per piacere È la mia prima partita Vediamo se campera sto tizio Perché Perché può camperare Dai Qualcuno mi salva per piacere Sì vabbè Ma questo mi guarda Ma campera Ma che cacchio Potrei scappare Ma non Ma Rischio secondo me Ah Non riesco No veramente Cosa Aia Cosa devo premere Che non ho capito Cosa devo premere Aspetta ma c'ha Uno skill check Avevo sentito Uno skill check E io E sono morto Fantastico E vai E che sono morto Guardate come sono pro Guardate come sono Bro Sono bravissimo a sto gioco Il templo Della purgazione La foresta rossa Ok Ok Andiamo a trovare qualcosa Non so chi sarà il kill Però No ma già la sei Oh porca miseria Chi cazzo sei No chi è Ma chi sei No Dai Ma iniziamo male Iniziamo male Veramente Dai camper No Dai per piacere Per piacere Per piacere Dai ma chi sei Ma chi sei Non ti ho mai visto In dead by daylight Dai per piacere No Oh forse posso Riesci Aspetta vediamo se riesco Oh For Muori Cadi da sto posto Di merda Dai Dai Riproviamoci Ma dove vuoi Dove vuoi mettermi Stavolta E che cazzo Ai Questa tizia chi è Non l'ho mai vista Aiutami Per piacere Aiutatemi Cazzo Oh Io salvo Non mi salva Non mi salva Sto fezzo Di merda Oddio Cazzo 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 No 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 Cazzo Leva 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 Mi proviamoci Non sarà Impossibile Sto gioco Cioè Se iniziamo così Sono al primo livello Qui non ho capito Cosa devo fare Ah Io pensavo Prendere spazio Perché io Vedevo Perché Grazie Leon Leon No no Io me ne vado Me ne vado Da sto posto Come cazzo fa A sapere che sono qui Dai Potevo utilizzare Il perk Ma come si utilizzano Il perk In qualità Sto Si utilizzano I perk Vaffan Cold me farm Cos'è sto posto Facciamo sto Generatore Io sento qualcosa Sento un battito Io ancora Non sento un cazzo Quindi Tra l'altro Lui con la sigaretta Sempre Vieni Vieni Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Oh ma se non è male Aspetta fammi Curare Curati Ti faccio curare Ti posso curare No Non voglio curare Non puoi curare Non ti curo Cazzi tua C'è che l'altro Sta andando a fare Oddio Oh no Lei C'è lo spirito C'è il fantasma Il fantasma blu E' la fantasma Giapponese Cazzo 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 Aspetta ti curo No Non andiamo a passare Aspetta aspetta Corri ti curo Veloce 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 Prima che Quell'altra Ok Andiamo Andiamo via Andiamo via Dove posso trovare Un generatore Ecco Un generatore Vai Facciamolo Facciamolo Questa volta La finciamo Questa volta La fingiamo Cazzo E' caduto No dai Veramente Il mio fratello Gemello E' morto Aspetta 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 Cos'è questo Totem Oh Ho trovato il totem Che cosa c'ha Il noed C'ha il ruin Il ruin Non può essere Perché Se no Fare Se no Scleravo tantissimo E mi prendeva sempre il killer Ho distrutto il poptem Sì però Quell'altro Dove No Veramente Io devo salvarlo Perché l'unico modo Per salvarlo E' lui Veramente Veramente Che non lo salvate Cazzo Tu fai il generatore Tu fai il generatore Ah Perché lui pensava Che facci No Dai Cazzo Cazzo Via 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 Aspetta Fatti curare Ok A posto Io non c'ho niente Perché potrebbe Potrebbe avere Non so che perché potrebbe avere Abbiamo già rubato Una maledizione totem Io riparo sto generatore Aspetta c'è il pallet Se arriva da lì Col muso proprio Cazzo 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 c'è il totem Cazzo Adesso c'è un Eh volevi Oddio Oddio l'ho trollato Via 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 Forza Veloce Dove è l'uscita Una star di qua All'uscita Quindi dobbiamo Veloce andare Per forza qua Grazie Grazie ragazzi Siete tutti qua Veramente Sento il battito Veloce 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 Oddio mio Non me Non sapevo che fosse qua Lei Dai Forza forza Veloce Veloce Ecco Vico Ecco Sono qua Sono qua Sono qua Veloce Sì Abbiamo vinto Contro lo spirito Che è il più difficile da schivare Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Che le scegliamo Scegliamo per prima cosa Che il Billy Il mandriano Quello con la monta sega Che one shotta tutto Eccoci qua Vai 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 Cazzo Lui può staccaccare il palle No Veramente Oddio Si è scollegato Ho vista Cazzo Come si fa a comandare Sto 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 One shotta One shotta Poi distruggo questo Scusate Ma distruggo questo Scusate Ma No Veramente Veramente Mi ha cercato Ma male Dov'è Dov'è Bill No Veramente Non ce la farai Non ce la farai No 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 Bastetetti Ho perso Per colpa mia Dall'altro Ok Stavolta Utilizziamo Un altro Killer Che Dov'è Stavolta Ragazzi Utilizziamo Un altro Killer Ovvero L'infermiera Che è hard Ecco Ecco qua Mount Ormond Resort Ormond Ok Come si fa Teggiare Sto Cosa Ok Sì Veramente Eh Però Sì Però Questa Non sta Facendo Niente Eh vabbè Ma questa Utilizza Tanto Eh vabbè Ma una Trebolezza Di Una Trebolezza Cavolo Non so Quel Così In mano C'è una Viola Così Fa Va bene Prendiamolo Sì Nel Groppone Nel Groppone Ragazzi No Nice Ace Vieni 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 Forza Ma non esco Manco Teggiare Sì Ma mi metti Questo Rizzaruzza Rizzaruzza Muori Muori Allora te Anche te Devi morire Tra poco Morirà Anche te Dov'è 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 La tizia La tizia L'avevo vista Prima Eh Ho perso Ah Eccoti Mi sembrava Strano Sai Dove Ti metto In cantina Se la Trovo Poi Non lo So Ecco Adesso Cioè Utilizza i poteri Per fare Sta cosa Infermiera La so Utilizzare Non con I blink Però Con I blink Con Lei Non riesco Manco A farne Uno Con Me Se ne ho Fatti Due E Sono Stato Bravo Sì È vero Che si può Caricare Anche Il Coso Si poteva Anche Caricare Si poteva Caricare Anche Il Colpo È vero Che sono Stupidissimo Proprio Però Cioè Sto Ok Quest'altro È morto Vieni 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 Bill Vieni 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 Dov'è Dov'è Andata Lei Dov'è Andato Lui Bill Dov'è Andato Pezzo Di Merda Dai Dai Io sto Sto Tremando Sto Sto Premendo Hits Con le Chiappette Dall'altro Hai Sbagliato Perché Hai Girato Così All'infinito Non si Saprà Mai In Questa Roccia Dai Vieni 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 Madò Quattro 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 Prima partita Da nurse Da infermiera Quattro Quattro partite Non ci si in quattro Sono contentissimo Veramente Sono contento Oddio Ma questo Ma questo utilizzava Perk Nessuno Utilizzava Perk Però Nessuno Utilizzava Sti Perk E va bene Ragazzi Questo Era Dead by Daylight Spero Che questo Video Vi sia Piaciuto Lasciate Un like E un commento E ci vediamo Al prossimo Video Ciao Non si senti Ciao Ciao